Mercoledì approveremo il bilancio preventivo, un bilancio anche quest'anno impostato in maniera molto positiva. Innanzitutto non ci saranno aumenti di tasse comunali per i cittadini, questo già di per sé né per i cittadini né per le imprese, questo di per sé è positivo. Poi ci saranno una serie di agevolazioni che gli altri anni non c'erano, ad esempio non pagheranno l'Imo sulle seconde case coloro che le case le hanno dati in utilizzo ai figli, ad esempio questa agevolazione non c'era, oppure non pagherà l'Imo chi si insedierà nei centri storici o aprirà attività economiche all'interno dei centri storici. Ci saranno agevolazioni fiscali per il trasporto ad esempio degli scuola, per i bambini perché ha più di un figlio, il secondo figlio pagherà il 30% in meno, il terzo figlio il 50% in meno. Anche dal punto di vista diciamo dell'attenzione all'ambiente si sarà un bando dove noi mettiamo a disposizione diciamo una cifra, circa 15 mila euro in un primo momento, per agevolare coloro che vogliono rimuovere le Ethernet ad esempio dalle abitazioni o accessori che abbiano questo tipo di coperture, quindi agevoleremo anche un risanamento ambientale sotto questo punto di vista, insomma tante attenzioni che gli anni addietro non c'erano. Anche il mondo scolastico riceverà un focus particolare da parte vota, aveste riservato capitoli importanti. Ci saranno, ci sono, molte attenzioni per i capitoli più delicati, uno è quello che hai appena ricordato della scuola, noi spenderemo 50 mila euro in più per il trasporto scolastico, così come mettiamo a disposizione fondi ad esempio per il trasporto dei ragazzi e ragazzi diversamente abili, 30 mila euro in più anche qui nel settore del sociale, molto interessante. Si sta creando una vera nuova comunità, tutto culminerà poi con la sede unica del comune che anche questa vedrà luce nel medio periodo, tant'è che per far posto alla nuova sede del comune a maggio partiranno i lavori a Saltara della scuola elementare Dezzi che abbiamo finanziato lo scorso anno e grazie poi a questa sistemazione di questa scuola lì ritornerà la scuola elementare che oggi è ospitata all'interno della sede comunale di Calcinelli e lì finalmente poi ci sarà una sede unica. Per quel che riguarda anche gli investimenti quindi quest'anno a parte la scuola Dezzi, a parte la palestra di Villanova che è già in attuazione, partiranno i lavori del cimitero di Serongarina, partiranno i lavori di 500 mila euro di asfaltatura del cimitero di Montemaggiore e quest'anno mettiamo in questo bilancio preventivo 370 mila euro per la sistemazione e rendere antisismica la scuola media di Montemaggiore una serie di opere pubbliche che vanno ovviamente al servito dei cittadini ma anche di tante imprese che sul lavoro troveranno poi il modo di lavorare.